6.000 prestazioni gratuite e erogate, due persone salvate nei giorni del campus da un ictus e da un infarto, due melanomi sospetti, diagnosticati e da analizzare nelle prossime settimane. Sono solo alcuni dei numeri dell'edizione 2023 del Campus 3S presieduto da Pasquale Antonio Riccio che si è concluso nel weekend sul lungomare Caracciolo a Napoli. È ottimo fare prevenzione, è ottimo il nostro lavoro nel promuovere il volontariato e far avvicinare i cittadini alla cultura della prevenzione, ma è altrettanto buono comunicarlo e comunicarlo magari ancora meglio rispetto a quanto si fa oggi per dire alla cittadinanza quanto può essere utile sottoporsi ai controlli e non trascurarsi. Una settimana di visite mediche gratuite che come sempre hanno garantito a napoletani e turisti di poter fare prevenzione. Soddisfazione nelle parole della professoressa Anna Maria Colau. 6.000 prestazioni gratuite circa in questi 5 giorni di visite. Abbiamo salvato un nostro amico che abbiamo chiamato simbolicamente Francesco, visto che era il giorno di San Francesco, da un possibile ictus cerebrale, un altro da un infarto, una donna da una possibile violenza in famiglia, alcuni casi di melanoma sospetti, alcuni casi di neoplasia mammaria sospetta da verificare nei prossimi giorni. Quindi grande partecipazione e molta salute che viene fuori da questa iniziativa. Successo anche per la prima edizione del Festival della letteratura sportiva organizzato da Tommaso Mandato, che ha portato sul lungomare napoletano tantissimi autori di volumi nazionali e internazionali che avevano lo sport come argomento principale. Abbiamo presentato 26 testi, c'è stato un grandissimo interesse, hanno partecipato più di 3.000 studenti a questa manifestazione, ci sono stati tanti autori, tanti relatori, tanti moderatori di altissimo profilo. Credo che sicuramente riproporremo, andremo avanti con questa manifestazione perché ha dato la possibilità a tante persone di conoscere le vere emozioni che lo sport riesce a dare.